Musica Benvenuti al concerto appuntamento con le previsioni meteorologiche. Andiamo a vedere insieme il meteo per la giornata di mercoledì 8 maggio. Cominciamo da Avellino con cieli in prevalenza poco nuvolosi e qualche addensamento dal tardo pomeriggio. I venti saranno deboli. Cieli in prevalenza nuvolosi anche a Dariano Irpino, Cervinara, Lioni e Baiano. A Napoli cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, i venti saranno deboli, mare poco mosso. A Salerno cieli in prevalenza nuvolosi, i venti saranno deboli, mare poco mosso. A Benavento cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, i venti saranno moderati. A Caserta cieli nuvolosi per l'intera giornata, i venti saranno deboli. Le temperature, Avellino temperatura massima di 17 gradi, 5 gradi la temperatura minima. A Napoli 17 gradi la temperatura massima, la minima 11 gradi. A Salerno 18 gradi la temperatura massima, 11 gradi la temperatura minima. A Benevento 21 gradi la temperatura massima, 7 gradi la temperatura minima. Mentre a Caserta la temperatura massima sarà di 20 gradi, la minima di 7 gradi. Ed è tutto anche per oggi. Ed è tutto anche per oggi.